Un passaggio che reputo importantissimo per i giovani telespettatori, nel senso che la grande capacità di mettersi in gioco e con grandissima umiltà far finta che non è successo nulla e ripartire da zero è un sintomo di chi non dà nulla per scontato, è come se ti rinventassi da capo. D'altro canto è così. Forse l'unico atteggiamento anche per poter stare sul. A me è venuto in mente un paragone alto che non ha molto senso con noi, però per fare capire, io mi ricordo che quando i Beatles si divisero c'è George Harrison che fa un concerto da solo e il mio pensiero da amante dei Beatles era, ma George Harrison da solo che cosa fa? Ringo Starr, Paul McCartney sì, ma senza John Lennon cosa cacchio faranno? Facendo questo pensiero e moltiplicandolo in meno per cento ho detto aspetta un attimo ma io chi sono? Io avevo un senso perché io e Andrea insieme eravamo tre, nel senso che avevamo un marchio che si era imposto in 40 anni di tante cose, sbagliando, facendole bene, giuste, in teatro, in televisione, con i libri, con i fumetti, con tutto quello che vi pare a voi, con le canzoni, con quello che vi pare a voi, ma la gente non sa, quindi ho detto no, allora escludiamo la roba perché tutti mi hanno detto scusa ma perché non ti fai chiamare Gaspare, perché tu come Gaspare sei molto più riconoscibile che il mio formicolo, io ho detto no, come ho scritto nel libro, Gaspare da oggi non c'è più perché Gaspare senza Zuzuro non ha senso di esistere, è finita quella storia lì, è finita quella storia lì, adesso ci sono io con la mia faccia e il mio naso, quelle sempre sono, il mio carattere quello sempre è, che faccio altre cose, faccio altre cose, sempre nell'ambito dell'umorismo che ci ha contraddistinto e nella logica che ci ha contraddistinto, cioè sta a dire il pubblico viene a vedermi e io voglio che esca contento, io voglio che il marchio di fabbrica che avevamo noi, quello me lo sono tenuto dentro e ce l'ho ancora adesso, quindi chi viene a vedere una roba in cui ci sono io deve sapere che quella cosa ha il marchio di fabbrica che avevamo noi, perché se no io non la vado a fare, perché comunque il nostro modulo, il nostro umorismo, il nostro modo di far ridere era quello e il mio era quello, di conseguenza quello è rimasto. Ragionavo alla doppia difficoltà, nel senso che da una parte dal punto di vista affettivo, artistico, insomma quello che è un modo superandi che da 40 anni andava avanti, di colpo viene azzerato, in seconda battuta anche il doversi reinventare personalmente, oltretutto con anche penso grandi problemi di un affetto che viene a mancare, di un rapporto che viene a mancare. Grandi problemi di affetto, grandi problemi di lavoro, grandi problemi economici, perché noi alla fine della fiera, io non ho lavorato due anni, fra una balla e l'altra, e questo mi ha segnato profondamente nello spirito e nelle tasche, quindi ricominciare è dura, è durissima, anche perché sai, trovarsi a 60 anni spiazzati, per fortuna io ho ancora voglia di rimettermi in gioco, anche se ogni tanto devo essere onesto, ho proprio una gran voglia di mandare tutti a dar via e dire ma sapete cosa c'è, mandatevene tutti, io vado ad aprire una pizzeria a Santo Domingo, visto che so anche cucinare, quindi non, perché troppi problemi, troppe cose, poi il periodo storico non aiuta, cioè 3.000, 3.000 cose che uno dice ma io perché, anche perché io non ho, a differenza di altri gruppi in cui c'erano ansie di rivincita, di rivalsa, di dimostrare qualcosa, io non devo dimostrare niente a nessuno, io voglio semplicemente continuare la mia carriera, finire la mia carriera in maniera umana, senza sputtanarmi, senza fare troiate, ma soprattutto vorrei vivere in maniera serena e tranquilla, perché tanto io quello che volevo ottenere da questo lavoro l'ho ottenuto, quindi so che grazie a Dio sono riuscito a fare quello che pochi, pochi riescono a fare, cioè a fare il lavoro che volevo ed arrivare dove volevo, i premi li abbiamo convinti, nelle enciclopedie ci siamo, nella strada dell'alconicità piccolina, una fettina piccina picciò, ce l'abbiamo pure noi, in teatro ci siamo arrivati, perché anche il pubblico c'è interazione, io vomito sul pubblico, per fargli sentire proprio... No, perché sostengo che le eroine, è vero se ci pensi, nei drammi shespiriani e nella tragedia, a un certo punto c'è quella che muore, a parte che impiegavano sempre 20 pagine per morire, ma muori o non muori? E poi quando morivano, morivano sempre in modo drammatico e allora io nel racconto faccio la parte di quello che diceva, senti, tutte le eroine di shespiri vomitavano prima di morire, avvelenate o così, e allora io scendo sul pubblico e vomit, sul pubblico, sul pubblico facendo incacchiare gli altri, perché dicevo, gli di qua non fare il cretino, l'ha scritto Shakespeare che è questa muore e vomitavano... E se è preciso sul testo, non è che fai... E per fare Ophelia che si annega, io mi tiro un secchio d'acqua in faccia, mi dice, e Ophelia morì come? Annegata? Già! E poi un cadu per terra!